Ethereum non si ferma più. Dove può arrivare la regina delle cripto? Quali sono i target che può toccare? Dove potrà arrivare nel prossimo mese? E soprattutto, come cambierà il contesto delle criptovalute se ETH continua la sua galoppata contro Bitcoin? Bene, ciao a tutti! Bentornati in questo nuovo video. Oggi andiamo a fare una super analisi su Ethereum alla regina delle cripto e andiamo a guardare tutto quello che riguarda Ethereum in questo preciso istante per arrivare alla conclusione che ci frulla un po' in testa. Dove può arrivare ETH? Quali sono i target che ETH può raggiungere effettivamente da qui ai prossimi mesi, ragazzi? Nell'ultimo periodo, soprattutto nell'ultimo mesetto, ETH si è completamente distaccato da Bitcoin e sta trainando il mercato delle criptovalute perché Bitcoin sta riposando in questo momento ma Ethereum sta facendo la regina vera e propria, ragazzi. Sta trainando l'intera alt-season settoriale sta portando avanti tutto quello che è il mercato, sta facendo fare veramente gain importanti anche l'intero settore della DeFi, ragazzi. E soprattutto c'è una sorta di maturità un po' nell'aria, non la vedete anche voi in questo mercato. Ethereum è subito facilmente utilizzabile per quello che è la questione adoption, ragazzi, per quella che è un po' quello che il mercato cerca nel settore cripto. Alla fine, ragazzi, è il mercato che deciderà tutta questa manfrina. Il mercato deciderà se vuole utilizzare una cripto, sì o no, magari ETH ha un sacco di problemi di scalabilità, lo sappiamo, un sacco di problemi nella, diciamo, programmazione, può essere hackerato, bla bla bla. Ragazzi, però oggi, oggi, oggi ci serve un qualcosa di utilizzabile che sia un po' mainstream, un po' facile, un po' vabbè ma io perché devo fare questa cosa? Un po' che risponda a questa domanda. ETH lo fa, ragazzi, ok? ETH lo fa e in questo momento il mercato la sta premiando, continuerà da qui all'infinito, non lo sapremo, Bitcoin ritornerà a prendere il sopravvento, lo vedremo, ragazzi, però è in dubbio, in questo momento ETH, Regina, sta trainando il mercato, dove può arrivare? Allora, andiamo a vedere tutto quello che riguarda questi grafici nel super video della domenica, ma il primo video è l'unica cosa. Iscrivetevi al canale, se ancora non l'avete fatto, e lasciate un mi piace, come sempre, ragazzi, ma poi io una cosa non ce l'ho, cioè, è praticamente, ragazzi, non ho il, la, diciamo, stemmino di, ma esiste una moneta di ETH, ragazzi, ho perso anche quella di Bitcoin, dove è finita? Oh mio Dio, ho perso quella di Bitcoin, porterà sfiga. Eh no, eh no, che non è così, allora ragazzi, dai, scherzi a parte, andiamo a vedere questo grafico, questi grafici, poi andiamo a rispondere alla domanda del target di Ethereum, ve lo faccio vedere sia per quanto riguarda il mese di maggio, che è appena iniziato, così andiamo a vedere anche questa cosa, e poi andiamo ad rispondere anche alla questione legata anche ai mesi successivi. Allora, intanto, ragazzi, tutto questo che è la struttura di Ethereum riguardante i suoi cicli di natura mensile barra trimestrale, vediamo che è a livello assolutamente molto alto, perché sta continuando questo suo trend veramente bellissimo, devo essere sincero, si poggia su questa media, che è una media 50, ragazzi, quindi cosa fa? Va in pratica appoggiarsi a questa media ogni volta che prova a fare degli swing ribassisti e poi riparte e fa nuovi massimi. Questo è il classico atteggiamento di uno strumento finanziario che è assolutamente in ottima salute. Questo identico atteggiamento lo sta facendo, ragazzi, da maggio del 2020, guardate qui, da maggio del 2020, dopo aver invertito il trend dopo marzo, insomma 2020, il trend è stato invertito qui, intorno ai 280, ve li ricordate? Vi dico a chi di voi è sul mio canale da quel periodo, da qualche anno, e si ricorda il nostro video, 280 Ethereum in versione di lungo periodo, e tac, si compra e si fa buy. Allora, questo l'abbiamo fatto veramente un anno fa, ragazzi, sembra passato anche di più, devo essere sincero. Comunque, allora, guardate tutto l'appoggio che fa, nonostante i vari swing, le varie fasi, si appoggia sulla media e riparte, si appoggia sulla media e riparte, ragazzi. Ovviamente moltissimi di voi stanno dicendo che è qui veramente la media è rotta, ragazzi, le medie non si usano come livelli predefiniti, ok? L'ho spiegato in milioni di video, lo spiego attentamente nei miei corsi di formazione. Non è quello il modo di usare la media, lo so che probabilmente avete letto fesserie a destra e a sinistra, non è quello, ok? Cancellata, la media è un intorno, non è un punto fisso, quindi il mercato quando si poggia su un livello come la media, ci sta intorno, ragazzi, non significa che ci si appoggia, non si possono usare come livelli fissi, sono indicatori da usare come intorni, ok? Allora, questo è l'atteggiamento che sta avendo, allora, da un punto di vista di fase di breve, e TH potrebbe incorrere nella famosa zona di metà maggio, perché, ragazzi, questa zona di metà maggio che va dal 10 maggio, più o meno dal 7 maggio, fino a metà, potrebbe essere difficoltosa per i mercati, ma lo vediamo domani, magari nel video anche classico sull'analisi dei mercati e su Bitcoin, e Ethereum potrebbe, in effetti, essere arrivati ad un massimo di breve periodo e fare la sua struttura un po' così. Questo potrebbe capitare se Bitcoin va a fare le sue strutture cicliche, magari in maniera anche abbastanza precisa, ma non è finita qui, secondo me, la scalata di TH, quindi anche se fa una cosa del genere, probabilmente, nell'eventuale nuovo swing, poi rialzista, anche se va a chiudere, diciamo, un ciclo così, poi potrebbe andare nuovamente a fare nuovi massimi. In questo momento, questo è il grafico che vi ho mostrato nell'altro video di questa settimana, quello relativo alle alt-season, ragazzi, in questo momento, ETH guadagna ancora su Bitcoin qualcosina in termini di market dominance, e si porta ad un livello ancora più elevato di capitalizzazione, ragazzi. Allora, questa cosa qui è fondamentale, però ancora la strada è veramente molto ampia. Come facciamo ad andare a capire, intanto, quali sono gli eventuali target da qui a un mese e barra più in là? Dobbiamo fare una similitudine con un doppio grafico, quindi dobbiamo andare a guardare prima il grafico di ETH con USD per capire i target del mese, diciamo, quelli un po' più vicini, e poi andiamo però a fare anche riferimento con Bitcoin, ragazzi, perché non abbiamo storico su ETH oltre questi prezzi in termini di USD, perché ETH contro USD è in price discovery, ma abbiamo storico conto Bitcoin, quindi possiamo utilizzare un po' questo doppio riferimento per avere dei livelli, ragazzi, ed è quello che andiamo a fare oggi. Allora, dove siamo? Ok, siamo qui. Allora, ragazzi, questo è... No, voglio farvi vedere prima ETH contro USD, ed eccolo qui, e vi faccio capire un altro livello. Allora, intanto, ragazzi, c'è anche una questione da dire. Alcuni di voi se ne sono accorti e me l'hanno anche detto in un video. Mauro, ETH fa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, questa sarebbe l'ottava candela mensile verde. Allora, sì, 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 siamo in un eccesso statistico mensile, assolutamente, sì, in dubbia questa cosa, ragazzi. Però, però, c'è anche da dire che questa criptovaluta, ragazzi, non è una criptovaluta su cui tutti avevano puntato semplicemente qualche anno fa. Questi tipi di eccessi statistici sono anche legati ad errori, ok? Secondo me la valutazione di ETH era leggermente più bassa di quello che era il suo corretto valore, ok? Rispetto a quella di Bitcoin. Cioè, semplicemente, in rapporto a Bitcoin, ETH era troppo deppole. Questo, il mercato, probabilmente, l'ha capito e sta portando la regina delle cripto al suo livello corretto per questa fase storica, ok, ragazzi? Quando il mercato sbaglia, cioè, in sostanza, ragazzi, ha sbagliato, questo vi sto dicendo, ha sbagliato valutazione, un po' tutti noi, un po' i retail, un po' gli istituzionali, moltissimi istituzionali si sono avvicinati al mercato cripto, a dicembre ne abbiamo parlato tantissimo di quello che sarebbe successo quest'anno, ma non si sono avvicinati partendo da ETH, ragazzi, si sono avvicinati partendo da BTC. Poi, magari, all'interno hanno iniziato a capire come funziona questo mercato, magari noi lo conosciamo da più tempo e quindi sappiamo queste cose, ma un istituzionale, ragazzi, probabilmente no. Quindi si è avvicinato al mercato con BTC, come giusto che sia, e poi è iniziato a capire che effettivamente per fare determinati giochini e fare determinate cose serviva ETH e quindi l'importanza anche della regina delle criptovalute in questo mercato. Questo probabilmente da un punto di vista di grafico e di oscillazione di prezzo ha dato il via a un rialzo extra, quindi diverso dal normale. Per questo siamo anche in una struttura di eccezzo che però è anche giustificato probabilmente dal fatto che ETH non aveva raggiunto magari il suo vero prezzo rispetto a Bitcoin, ragazzi, perché secondo me, qui ve lo dico, poi non lo analizzeremo, allora il vero prezzo di ETH sarà in base a Bitcoin che va ad essere analizzato, ragazzi, non in base a se stesso, ok? Quindi ETH assumerà valore in base anche al valore di Bitcoin. Magari noi abbiamo visto qui che abbiamo un percentuale di rapporto di 50 Dominance Bitcoin 15 ETH probabilmente magari questo rapporto si livellerà non magari vicino, non lo sappiamo questo, ragazzi, tutto è possibile, però probabilmente questo 15 magari tenderà a diventare 20 barra 25 e questo 48 tenderà a scendere un pochino perché gli presta, diciamo, un poco della cap, quindi in sostanza si livelleranno. Comunque, tralasciando questi discorsi che sono un po' futuristici, però questo mi serviva per spiegarvi perché ETH probabilmente ha assunto un eccesso su queste candele mensili che però è anche giustificato da un errore, un errore, scusate, che era a monte del mercato, ok? Quindi fatta questa premessa, però andiamoci a tirare quelli che sono i due target, il primo è quello di aprile e poi vediamo logicamente dove possiamo arrivare con ETH contro Bitcoin e poi facciamo lo switch per capire in dollari quanto vale, ragazzi, ok? Allora, da un punto di vista di resistenza per aprile, l'aria che vi ho indicato qui è facilmente raggiungibile. Vi avevo accennato già lo stesso tipo di calcolo per il mese, scusate, non di aprile, di maggio, ragazzi, ok? Sono rimasto a ieri. Va bene, allora, vi avevo già accennato ad aprile e che era possibilissimo arrivare in zona 2.5, l'ha anche superato, i dislancho, io non mi aspettavo, ma c'è riuscito. In questo caso, ragazzi, questa aria che va da i 3.100 ai 3.400 circa è tutta un'aria abbastanza facile da raggiungere per quanto riguarda ETH, soprattutto se farà una fase ribassista all'inizio del mese, ragazzi, e non dopo. Quindi se praticamente gioca un po', ma poi scende nella prossima settimana e magari poi verso fine mese, ritorna e si approccia in quest'area. Quindi i livelli di target raggiungibili, se continua la sua scalata verde per il mese di maggio, sono l'aria tra i 3.180, quindi 3.200 se proprio vogliamo essere un po' più alti e 3.400, ragazzi. Ok, questo per il mese di maggio se fa una candela verde, quindi se non spezza il ritmo. Quindi per fare questa cosa, secondo me, ragazzi, ha bisogno di scendere prima. Oppure magari se tira, insomma, va lì, poi però lì può essere che diventa un take profit, ok? Quindi è un discorso diverso. Però andiamo a fare un'altra cosa, andiamoci a spostare su quest'altro grafico, ragazzi, che è quello di Ethereum contro BTC. Perché facciamo Ethereum contro BTC? Per andare a sguicciare sul prezzo di BTC e trovare degli livelli di resistenza che sono storici di ETH contro il re dell'ecritto e capire a questo punto dove può arrivare proprio in termini di target nei prossimi mesi ETH. Facendo un semplice calcolo, ragazzi, ai prezzi attuali di Bitcoin e poi cercheremo di capire se è gestibile o non gestibile, poi comunque lo seguiamo ovviamente come sempre. Ragazzi, allora, non mi perdo in altre chiacchiere, il video sta diventando lungo quando mi entusiasmo a parlare delle cose, lo sapete ragazzi, ci sto dentro e quindi ci metto un po' di più. Allora 0.055, questo livello è un livello di resistenza, lo scriviamo, facciamo così, 0.055 è un livello di resistenza di ETH contro Bitcoin. Quindi può arrivare qui, lo può fare veramente in questo mese di maggio abbastanza facilmente. Da qui in poi siamo in uno snodo per la regina dell'ecritto. Probabilmente si fermerà lì, tenterà la rottura, poi si fermerà. Ragazzi, vanno a un livello estremamente complesso contro Bitcoin, ma se rompe quel livello fa uno snodo ragazzi, quindi passa effettivamente in un'altra fase Ethereum, perché ragazzi a quel punto andrà ad inserirsi all'interno di quest'area qui, che è un'area molto 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 vasta, e in quest'area qui costruirà la sua storia contro Bitcoin. Però badate bene ragazzi, che è un'area talmente vasta, che potrebbe anche non raddoppiare rispetto a Bitcoin, ma quasi, quindi fare un bel 30-40% in più di Bitcoin ragazzi, ok? Quindi questo ci porta a una considerazione finale, per capire l'eventuale prezzo di ETH se consideriamo Bitcoin. Allora, ipotizzando una zona di medio, arrivo se, insomma, questo che ci siamo detti veramente fila liscio, ed ETH continua ad essere forte contro Bitcoin, ma prima deve rompere questo ragazzi, ok? Se rompe questo, qui ci si può arrivare 0.07, ve lo scrivo così, 0.07 è un'area di medio all'interno di questa struttura, e ci può tranquillamente arrivare. Bene, ok, 0.07 ha circa 60.000 dollari di Bitcoin in Switch, fa 4.500 dollari come target per i prossimi mesi di ETH, è possibile? Sì, se continua questa sua scalata con Bitcoin, possiamo andare oltre questa cifra? Sì, se Bitcoin continua la sua salita, cioè se la capitalizzazione di tutto il mercato cripto sale ancora. Quindi noi possiamo avere ragazzi, un livello di equilibrio tra Bitcoin ed ETH, che potrebbe stabilizzarsi intorno a questi livelli nei prossimi mesi, e Bitcoin, se Bitcoin resta fermo ETH intorno a questi livelli, deve stare sui 4.500 circa, 4.000-4.500 ragazzi, ok? Quindi ci sarà questo 10%, io non so scrivere col mouse, ragazzi, allora, e questo è un livello accettabile con Bitcoin a questi prezzi, ma se il Bitcoin aumenta ancora di valore, quindi se riprende la sua galoppata ragazzi, ok? Se raddoppia Bitcoin, possiamo dirla così, che succede? ETH10k. Sì, è possibile, ma solo in quel caso, se noi andiamo ad aumentare l'intera capitalizzazione del settore cripto, cioè, se tutto il mercato fa un passo avanti, allora lo fa anche ETH insieme a tutto il resto. Ma probabilmente i livelli di equilibrio tra Bitcoin ed ETH resteranno quelli che vi ho detto per i prossimi mesi. Se, e solo se, facciamo una cosa così, supererà 0.05. Bellissima momento, bellissima situazione. Cosa ne pensate voi ragazzi, ok? Non buttiamo target admin, ok? Ma mettiamo target che hanno serietà, che hanno valore dietro e soprattutto una giustificazione oggettiva dai dati statistici. Va bene, ho parlato assai e domenica vado a pranzare. Scrivetemi il vostro target nei commenti. Come sempre, ciao a tutti!